Noi abbiamo ieri depositato il programma di governo della città che sviluppa l'accordo programmatico già raggiunto dai partiti del centro-sinistra nel mese di dicembre e che lo fa con una visione organica della città, propone una immagine di futuro della città che non è un elenco di azioni amministrative, ma che corrisponde ad una visione della città che vogliamo come primo dei beni comuni, che è una città ambientalmente e socialmente sostenibile per il suo sviluppo, che rimette al centro una moderna pianificazione pubblica, politiche urbanistiche che abbiano questo taglio rigoroso di riorganizzazione dei profili del territorio tant'è che il sindaco terrà la delega urbanistica, vogliamo politiche ambientali più rigorose, politiche della mobilità più coraggiosse, proponiamo un'innovazione significativa che è ricostruire un assessorato che tenga insieme le politiche del welfare con le politiche dello sviluppo economico perché il welfare si è davvero motore di sviluppo, proponiamo il sapere come trasversalità nelle azioni di governo, cioè le politiche culturali dell'istruzione e della ricerca come il lievito di tutte le altre politiche, naturalmente con una visione infrontata a grande realismo per la gestione delle risorse pubbliche, del patrimonio e delle partecipazioni aziendali che vogliamo ricondurre dentro il perimetro delle funzioni istituzionali prevalenti perché il comune non deve fare l'imprenditore, il comune deve aiutare l'imprenditore a fare bene il loro mestiere e il comune deve fare bene i suoi servizi essenziali.